C'è massima allerta per gli obiettivi sensibili nel golfo e nell'area metropolitana di Napoli in vista del G7 che si terrà dal 17 al 19 aprile sull'isola di Capri. Dopo il recente attacco dell'Iran verso Israele e dell'acuirsi della crisi medio-orientale, il prefetto di Napoli Michele Di Bari ha disposto l'intensificazione dei dispositivi di vigilanza a protezione dei siti e degli interessi sensibili per garantire la sicurezza ai ministri degli esteri di Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Regno Unito e Stati Uniti e dell'alto rappresentante dell'Unione Europea, che saranno i protagonisti dell'evento con le rispettive delegazioni. Tutte le forze di polizia sono attivate per garantire lo svolgimento del vertice della pacifica convivenza tra i cittadini, ha spiegato il prefetto, che ha previsto la divisione del territorio in tre aree da monitorare, definite di massima sicurezza, riservate e di rispetto, a seconda del potenziale grado di allerta. L'isola sarà blindata da centinaia di uomini con accessi controllati e di vieti di transito in alcune zone. Saranno impiegate diverse unità specializzate, tra cui carabinieri, polizia di stato, guardia costiera e guardia di finanza, e utilizzati sistemi di videosorveglianza all'avanguardia per monitorare gli spostamenti degli ospiti. Un barco sorvegliato regolerà l'accesso all'isola via mare, le delegazioni ufficiali saranno accolte nel porto turistico, mentre elicotteri e droni sorvoleranno i siti del summit e la zona rossa istituita attorno al Grand Hotel Kisisana, dove si svolgerà la riunione conclusiva del summit. A Darmanforte, al piano della prefettura di Napoli, sarà anche il Viminale, dove questa mattina si è riunito il Comitato Nazionale per la Sicurezza Pubblica. Nell'agenda del G7 di Capri c'è la situazione in Medio Oriente, con il conflitto tra Israele e Iran, che sarà al centro dei colloqui, come sottolineato dal Premier Giorgia Meloni, insieme alle strategie per la sicurezza globale, la prosperità e la tutela dei diritti umani. che la nostra nazione sta...